... Mercoledì 12 maggio 2021, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV. Sul canale 17 c'è Occhio ai giornali, Occhio ai giornali è la rassegna stampa, o meglio il commento alla stampa del giorno. Abbiamo selezionato anche per voi questa mattina alcune pagine dai giornali, il resto del canale del Corriere Adriatico c'è tanta cronaca, tanta cronaca che vedremo tra poco. Intanto il tempo, anzi prima il santo e poi il tempo di questa giornata. Oggi sono tra i vari santi, santi Nereo e Achilleo. Il sole è sorto alle 5.46, tramonterà alle 20.28. Temporalia raffica nei prossimi giorni, anche rovesci, insomma trebimeteo.com con la sua consueta cartina geografica ci dà la possibilità di vedere subito a che punto è la situazione della bassa pressione che sta arrivando, anzi arriverà venerdì. Ma andiamo a vedere subito il tempo nella nostra regione, la regione Marche. Allora questa è la mattinata di oggi, il pomeriggio con le prime piogge sul Pesarese in particolare e poi la giornata di domani, giovedì, andiamo, eccola qua, giovedì mattina, niente di che, soltanto qualche velatura, ma il pomeriggio che darà il meglio di sé con la pioggia soprattutto sulla costa Pesarese e Anconetana, poi piogge schiarite invece sul resto della regione, migliora nel corso della serata. E adesso i giornali, cominciamo dal Carlino Di Pesaro, fateci lavorare, questo è il titolo della fotonotizia, protestano i negozianti dei centri commerciali, perché protestano? Perché loro sono costretti a chiudere nel fine settimana, mentre la distribuzione, gli alimentari, insomma, rimangono aperti, farmacie, parliamo dei centri commerciali soprattutto, gli altri devono rimanere chiusi. Ecco, questa è vista soprattutto adesso dai commercianti che sono penalizzati nel fine settimana come un'ingiustizia. TSO allo studente, sindaco, il sindaco è quello di Fano, nel mirino, in psichiatria dopo il no alla mascherina, petizione contro Seri che ha fermato il provvedimento sanitario. E poi pestato dal branco per lo smalto, adesso arrivano le telecamere alla Rocca, scontro tra moto e auto e monopattino, quattro persone all'ospedale. Andiamo a vedere adesso invece la pagina del Corriere Adriatico, l'apertura per il Covid, Galantara sogna il Covid Free, dopo otto mesi dalla riconversione la struttura si sta svuotando, ma rimane il nodo del personale. La scuola nei comuni in Arancione Rafforzato, a Qualagna resta in didattica a distanza, lo screening grazie invece il comune di Petriano. Positivi, l'età media nelle Marche è di 38 anni, quasi 36-39 anni, contagiati dunque sempre più giovani e poi presidente di Anci Marche, il sindaco di Ancora Mancinelli, solidale con Massimo Seri per la vicenda del TSO. Allora, dicevamo della cronaca, cominciamo da pagina 22 del Corriere Adriatico di Fano, un incidente che si è verificato ieri intorno alle 13 a Ponte Sasso di Fano, sono riuscito a rianimarlo, questa è la dichiarazione e la testimonianza di Luca Stefanelli che di professione fa lo dontoiatra, è un ex consigliere comunale di Fano ed è intervenuto per prestare il primo soccorso ad un motociclista senegalese di 54 anni coinvolto nell'incidente che appunto è venuto intorno alle 13 all'incrocio fra la Statale Adriatica e via Lago di Garda a Ponte Sasso di Fano. Questo è il luogo della tragedia, ecco dell'incidente, vedete il moto a terra e il motociclista viaggiava su un'onda quando si è scontrato con una Fiat 600 condotta da una marottese di 22 anni che ha riportato qualche contusione di minore entità. Però l'ambulanza l'ha portata comunque in via precauzionale al pronto soccorso di Fano. Poi c'è la notizia, sempre sulla pagina di Fano del Corriere, dell'autopsia che è stata eseguita sul corpo di Nino Talamelli, quell'agricoltore morto a 95 anni, morto per i traumi dell'urto violento con il mezzo agricolo, domani l'addio alle 15.30 nella chiesa di San Cesario a Carrara di Fano. Nino, così conosciuto da tutti, è morto giovedì scorso a causa di un incidente mentre stava sistemando il terreno di sua proprietà in località Cannelle. L'autopsia ha stabilito che l'anziano ha perso la vita per alcuni forti e diffusi traumi riportati nella disastrosa caduta. Il Carlino di Fano, oltre a parlare, a dare giustamente la notizia dello schianto sulla Statale, cui è rimasto vittima grave un motociclista, c'è anche la notizia che, qui di taglio basso, che alcuni balordi hanno saccheggiato il circolo all'ex foro Boario e si sono messi pure a bere la birra. Brutta sorpresa per la titolare, rotti gli infissi e messo sotto sopra il locale, bottino di pochi spiccioli a prezzo di una devastazione mai vista. Anche a Fermignano c'è stato un incidente grave, ieri l'eleambulanza ha fatto più volte la spola tra il Torrette di Ancona e alcune località della provincia di Peseo Rubino. Ieri mattina a Via Bivio Borzaga un ciclista di 49 anni è stato investito, ripeto siamo nella zona di Fermignano, nella tarda mattinata, verso le 11 circa, in questa rotatoria sulla Statale 73 Bis. Per l'impatto il ciclista che era in sella alla bicicletta con cui si allena è caduto sull'asfalto ed è stato portato con l'eleambulanza al Torrette di Ancona. Anche il Carlino con l'immagine quasi tutta pagina fa vedere dove è il punto esatto dove è atterrata l'eleambulanza dove si è verificato questo incidente, il ciclista è di Fermignano ed è stato investito da un furgoncino e questo 49enne stava rientrando da Canavaccio e aveva imboccato la rotatoria quando è stato centrato sul lato destro da un furgone da lavoro, il conducente è un maceratese. Mentre un altro incidente, qui di nuovo l'intervento dell'eleambulanza, questa volta a Pesero dove vittima di questo incidente è in lungo via Caboto e uno spagnolo, o meglio tutti e due, un pesarese di 50 anni e uno spagnolo di 22, sono comunque rimasti feriti ma ad avere la peggio è stato il 22enne, un 22enne spagnolo che era a bordo di un monopattino un monopattino che, come si evince dal titolo, è sbucato sulle strisce pedonali il motociclista non è riuscito a evitarlo e dunque c'è stato questo incidente grave con questi due feriti il più serio è il centauro, anzi trasportato ad Ancona entrambi si sono rimasti feriti e ora sono ricoverati all'ospedale il ragazzo al San Salvatore di Pesero, il motociclista invece è stato trasferito nell'ambulanza al Torrette ed è appunto quello che appariva più grave quindi paradossalmente chi si è fatto più male è quello in motocicletta e non quello sul monopattino anche questi monopattini, a dire il vero, anche qui l'uomo inventa tante cose belle dobbiamo ringraziare il cielo ma questa se la poteva evitare, se la poteva risparmiare far viaggiare a 70-80 km da loro, non so quanto vanno ma vanno come nei matti su una tavoletta, a quella velocità le persone, io credo che sia veramente folle va regolamentato senza meno perché è una follia far andare a quella velocità le persone su un monopattino di fatto sei tu, è una tavoletta con due ruote quindi è un piccolo manubrio sul quale tu devi controllare a una velocità così elevata tutto, ecco, quindi potete immaginare il ragazzo con lo smalto in comio il ragazzo che l'ha difeso è la proposta di un gruppo che si chiama Every One che paragona la vicenda al caso di Willy Duarte insomma, questo ragazzo di 17 anni è definito adesso un eroe ed è quello che ha pagato di più perché, come abbiamo visto, è finito all'ospedale 30 giorni di prognosi poi spacca a calci il vetro dell'auto della polizia è stato arrestato un 22enne anzi, un 23enne pesarese arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale perché? Perché non rispetta il coprifuoco e quando gli agenti lo hanno fermato lui è andato in escandescenza ha dato una gomitata ad un poliziotto e con un calcio ha spaccato il vetro del finestrino della Pantera la Pantera è l'auto di servizio della Polizia di Stato Pestato per lo smalto, telecamere alla Rocca questo è l'annuncio dell'assessore Barbara Brunori che dice, nell'area riservata alla sosta sarà prevista anche una nuova illuminazione per aumentare la sicurezza l'intervento da 30 mila euro sarà un deterrente come avvenuto al Pincio infatti, illuminiamo Barbara bravissima, fa benissimo persona sensibilissima per cui niente da dire su questo intervento va bene più zone illuminate ci sono in città e meglio è ma il problema è che se non cambia la testa della gente il problema lo spostiamo accendiamo il faro lì e la gente si sposta dove è buio dal Pincio li abbiamo spostati qua da qua si sposteranno da un'altra parte e il problema è però intanto noi accendiamo e va benissimo perché comunque una città illuminata è sempre più bella e anche più sicura forse va vissuta meglio nel senso che se si fanno iniziative ed eventi potrebbe essere e portiamo gente a questi eventi che ha un po' più di sale nella zucca evidentemente tutti gli altri vanno a finire altrove però è un problema che nasce e che va risolto alla radice altrimenti si sposta caso TSO Seri nel Mirino dimissioni o parte a livello nazionale una raccolta di firme sollecitata dai genitori del diciottenne ma Mancinelli dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che è anche il sindaco di Ancora difende il sindaco di Fano e dice ha fatto il suo dovere dunque dopo questo caso di TSO a questo studente diciottenne è stata lanciata in tutta Italia una petizione per chiedere le dimissioni del sindaco Massimo Seri ora su questo ognuno ha la sua alla sua opinione si è fatta una sua opinione anche se ribadisco secondo a mio parere a mio modesto parere non la sappiamo tutta la situazione come sta la faccenda ne sappiamo un pezzo ne manca un altro quindi è inutile che stiamo qui a sentenziare a fare tutti i costituzionalisti non abbiamo sufficienti prove per poter dire o elementi più che prove per poter dire esattamente o dare un giudizio il più possibile veritiero quindi ne manca un pezzo detto questo detto questo che vi volevo dire mi sono perso vabbè detto questo però ecco sulle dimissioni sulle dimissioni del sindaco mi sembra che ecco adesso mi è tornato in mente volevo dirvi questo che chi ha detto la cosa più giusta secondo me è Saltamartini l'assessore regionale alla sanità che ha detto questo è un fatto abnorme oh questo è il senso è stato giudicato abnorme cioè una una cosa che troppo grande rispetto a quello che è successo quindi sentite cosa dice anche l'ex assessore Davide Rossi dice la psichiatrizzazione del dissenso è un segno distintivo dei peggiori regimi comunista regimi comunista non solo sia di destra che di sinistra Giulio Saracineschi a Fano Center lavorare in sicurezza è possibile c'è una protesta simbolica dei commercianti della galleria ancora costretti a tenere chiuso nei fine settimana loro dicono giustamente è insostenibile questa situazione paura Bellocchi sempre a Fano ragazzino in bicicletta travolto dal furgone da un furgone è successo ad un ragazzino di 13 anni in via 29esima strada a Bellocchi ed è stato investito intorno alle 18.30 Sindaca Mancinelli solidale con Seri al suo posto anch'io avrei firmato TSO lo studente non mask petizione per le dimissioni la presidente Anci Marche lo difende è stato fatto oggetto di critiche e contestazioni diffuse e spesso radicali la sua casella di posta elettronica è stata bersagliata da email di protesta provenienti da tutta Italia a Pesero e Fano circola una raccolta di firme per la richiesta delle sue dimissioni il sindaco di Fano Massimo Seri è dunque finito nel mirino per aver disposto il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti dello studente diciottenne che protestava contro l'obbligatorietà della mascherina a scuola un provvedimento firmato come autorità sanitaria locale su proposta di un medico del pronto soccorso e contro firmato da una psichiatra ora io non devo difendere non sono l'avvocato del sindaco Massimo Seri e quindi lungi da me il farlo però nel momento in cui arriva già su questo foglio su questa richiesta su questo provvedimento c'è già una firma di un medico del pronto soccorso e c'è già ed è contro firmata anche da una psichiatra la terza firma è quella del sindaco ora la domanda che mi pongo è un sindaco può dire no e prendersi una responsabilità enorme lasciamo stare l'età del ragazzo io sindaco ho un foglio firmato da un medico del pronto soccorso e contro firmato da una psichiatra quindi non due presi dalla strada due persone eccetera due professionisti del settore medico ora io che sono sindaco che non sono medico che non so nulla di tutto questo di fronte a queste due firme mi assumo la responsabilità di non firmarlo e magari di mandarlo a casa e se poi questo a casa adesso sto esagerando e sto esasperando tutto ma questo a casa andava in escandescenza perdeva un coltello e cominciava a fare da matto cioè che ne sappiamo noi allora io credo che questo sia come al solito in Italia una strumentalizzazione politica bella e buona quindi lasciamo fare il lavoro dei medici ai medici quindi se qualcuno ha fatto qualcosa di abnorme non è il sindaco ma va cercato perché non è un medico ma va cercato al pronto soccorso e va cercato probabilmente a Muraglia ma non in via San Francisco ma ripeto non devo difendere il sindaco non mi interessa difendere il sindaco però questo è il mio parere poi chiaramente qualcuno di voi sarà d'accordo altri avrà un'altra opinione mentre a Pesaro sul Corriere Adriatico si parla oggi dell'omicidio Malipiero fissata al 16 giugno la Cassazione che deciderà sull'ergastolo combinato a Zaccaria Safri e ieri mattina il 41enne marocchino che vedete nella fotografia doveva rispondere di un'altra accusa quella di minaccia a un agente della polizia penitenziaria ok l'udienza il 16 giugno per Safri nuovi guai però insomma la Cassazione poi deciderà sull'ergastolo o meno stiamo parlando di una della morte di una donna pesarese avvenuta qualche anno fa e dove appunto quest'uomo è finito in carcere andiamo adesso invece sull'altra ecco apriamo adesso la pagina della pandemia poche pagine semplicemente per dirvi un po' come stanno andando le cose in questi giorni qui nelle marche allora intanto i positivi abbiamo visto è scesa l'età media nelle marche di quasi 39 anni 38 e 6 diminuiscono però i contagi in 5 mesi con la campagna vaccinale è cambiata la fascia di rischio la pressione ospedaliera continua per fortuna a calare la terapia intensiva è a quota 53 quindi vedete eravamo a 170 un paio di un mese e mezzo fa 170 siamo a 53 quindi sta andando bene ma sta andando male per il pesarese la zona del pesarese che ancora non riesce a venirne fuori da questa da questa pandemia da questi contagi il pesarese cresce lentamente ma rischiamo l'effetto riaperture la variante indiana qui nelle marche non c'è parla il virologo Menzo del Torrette di Ancona che fa il punto sulla pandemia regionale la vaccinazione invece rallenta dosi solamente ai target che sono stati già avviati l'assessore Saltamartini dopo il vertice con il generale Figliuolo dice non siamo in grado di far partire la fascia 50-59 la somministrazione delle aziende invece partiranno a giugno quindi ieri chi ha seguito la rassegna stampa e so che in tanti ci seguite fedelmente tutti i giorni ricorderete che insomma a giorni sarebbe dovuto partire lo slot 50-59 anni in realtà quanto si capisce questa mattina insomma non si è pronti non si è pronte quindi è meglio intanto concludere i target cioè le persone che già sono state tutte le vaccinazioni che sono state già avviate quindi richiami e quant'altro poi una volta terminate quelle e quando ci saranno i vaccini a disposizione soprattutto questo si partirà con i 50enni nella fascia fino ai 59 anni intanto il centrodestra chiede di eliminare il coprifuoco coprifuoco che ancora è alle 22 Draghi prende ancora tempo il premier fissa la cabina di regia solo lunedì ipotesi del limite alle 23 dopo il 17 di maggio via il sistema dei colori quindi non saremo più arancioni rossi bianchi e gialli ma saremo non so cosa saremo saremo intanto crolla il tasso di positività è al 2,4% 600 ricoverati in meno in tutta Italia il bollettino parla di quasi 7000 nuovi contagi e 251 vittime la rinanimazione è meno 102 pazienti insomma anche qui a livello nazionale vedete insomma sta decisamente calando come se questo virus piano piano stesse anche quest'anno abbandonando io spero che non torni a ottobre frenata vaccini solo 300.000 dosi e Pfizer avverte attenti ai richiami il colosso sconfessa il comitato tecnico scientifico seconda iniezione dopo 21 giorni si attende il via libera per gli adolescenti mentre a Senigallia ma anche qui non c'è da scandalizzarsi più di tanto nel senso che è una notizia che non deve preoccupare più di tanto è successo succederà ancora una maestra Senigallia che era stata vaccinata è risultata positiva al covid il malessere dopo alcuni giorni dalla seconda somministrazione è chiaro che poi una classe la sua classe è finita che è una classe delle primarie della Cesanella è finita in quarantena dunque l'Asura ha comunicato questo provvedimento eccetera eccetera all'insegnante si era sottoposta alla seconda dose nei primi giorni della scorsa settimana e dopo aveva accusato alcuni sintomi riconducibili al vaccino sintomi che però con il passare delle ore non si sono alleviati e così è stata sottoposta al tampone che purtroppo è risultato positivo ecco però ripeto sono casi rarissimi e comunque un conto è prendere il covid senza copertura vaccinale un conto è prenderlo con la copertura vaccinale quindi è già successo soprattutto anche tra i sanitari mi pare due nella nostra provincia due sanitari di Pesaro sono rimasti positivi dopo aver fatto il vaccino eccetera eccetera però con sintomi lievi insomma mentre il virus si è portato via il consigliere Manoni aveva 64 anni sempre dalle parti di Senegal anzi a Castelleone di Suasa l'amministrazione in lutto aveva 64 anni era positivo dal 13 aprile poi la situazione è peggiorata oggi gli verrà attributato l'ultimo saluto alle 10 nella Chiesa dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo la bandiera blu invece a Fano sventola sempre su metà litorale riconoscimento a Fosso Signore Sassonia e Metauriglia per Lido e Arzilla invece si spera nel 2022 infatti quando parliamo di bandiera blu a Fano ma così come a Pesaro eccetera eccetera in molte località non si intende per tutto il litorale ma soltanto in alcuni tratti per esempio a Fano la bandiera blu è valida solo a Fosso Signore nella spiaggia di Sassonia e in quella di Metauriglia mentre per la spiaggia del Lido e la vicina Arzilla per colpa del torrente Arzilla che insomma sappiamo quali problemi dà ogni volta che piove non solo ecco per queste due spiagge questi due tratti di spiaggia si spera nel 2022 con l'aggiustamento della situazione di bonifica andiamo ancora sulla pagina adesso di Vallefoglia da Vallefoglia scritte offensive vergate con lo spray nel mirino la signora del terzo piano qui si parla di un processo che è in corso al Tribuna di Pesaro dove un settantenne è accusato di due episodi in aula le perizie addirittura calligrafiche per vedere se per vedere appunto se la calligrafia è la stessa di quella apparsa sui muri da Fossombrone è giunta la terza ambulanza ecco riecco il rischio emergenza donna investita resta sulla strada in attesa del 118 a poca distanza dall'ospedale non è stato ancora risolto il problema del ripristino dei punti di primo intervento e poi Biancani che diffonde fake news sulla ciclovia il consigliere regionale anzi i consiglieri c'è un refuso che poi mi fa balbettare ma se sbaglia il giornale io poi leggo quello che c'è scritto i consiglieri no i consiglieri regionali Sir Filippo e Cancellieri sul percorso della Fano Urbino contro le fake news di Biancani mentre a terre roveresche vedete il sindaco qua che firma firma per dire no al biodigestore itera il via tra le barricate oggi comincia la conferenza dei servizi ma il comune di Torre roveresche appunto ha già votato una delibera che esprime parere contrario all'impianto mentre cascata di Valrea ok i lavori ma io avevo segnato questa pagina ecco per il lupo investito esatto accoglie al metauro guardate questa foto un lupo è stato investito in superstrada Calcinelli sul posto ai volontari della Foxis Ollus di Fano sulla carcassa verrà effettuata l'autopsia e l'analisi del DNA per il funerale vi faremo sapere niente feste da ballo in spiaggia un pacchetto di serate in deroga la musica si potrà ascoltare da seduti per i bar degli stabilimenti chiusura in fre settimanale alle 21 niente feste dunque in spiaggia Senigallia dove la musica si dovrà ascoltare da seduti il comune sta valutando la possibilità di concedere un pacchetto di serate in deroga che ogni stabilimento potrà gestire in maniera autonoma poi sotto no mi pare che ecco l'ultima pagina eccola qua pagina 29 sempre da Senigallia addio a Manoni esempio di coraggio consigliere comunale ucciso dal covid a Castellione piange Sandro costretto sulla carrozzella dopo una caduta sullo snowboard aveva 63 anni e questa è l'ultima pagina della nostra rassegna stampo ancora qualche secondo sì per ricordarvi alle 9 l'udienza del Santo Padre in diretta su Fano TV poi ci sarà la ginnastica alle 4 e mezzo di oggi pomeriggio ultima puntata di esplorare i confini intitolata dei semplici della montagna sul Monte Nerone con Loretta Stella alle 18 il Santo Rosario dall'Algeria da Algeri e alle 21 uno speciale che abbiamo registrato nei giorni scorsi sull'inaugurazione di un nuovo spazio aperitivi di un noto ristorante della zona ed è un po' sono immagini che ci ridanno un po' speranza ci fanno immaginare di nuovo un ritorno alla vita normale è tutto grazie per averci seguito tra pochi secondi in diretta dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa del Mattino arrivederci grazie a tutti